Presso l'auditorium di Confartigianato, di fronte a un folto pubblico, il celebre scienziato americano Barry Sears ha raccontato l'ultimo libro della sua trilogia, Fresco di stampa, intitolato La zona mediterranea. Il dottor Sears da 30 anni è un luminare infatto di dieta zona e il punto fondamentale è ciò che ci permette di raggiungere certi valori ormonali che consentono di tenere sotto controllo l'infiammazione, colpevole del rapido invecchiamento, di numerose malattie e dell'accumulo di peso. La dieta zona consente di non avere senso di fame, ma anzi più energia tramite tre semplici regole, occhio, orologio e mano. Ad ogni pasto basta dividere idealmente il piatto in tre aree, di cui una è dedicata alle proteine magre e le altre due a carboidrati come frutta e verdura. Ciascun terzo deve avere le dimensioni del palmo di una mano e se per le successive 5 ore sono sazio e reattivo, allora ho eseguito bene i principi della dieta. L'evento è stato promosso e organizzato da Federpharma Brescia. La dottoressa Clara Mottinelli, presidente, ha sottolineato l'importanza della teoria del professore e di come, in considerazione di una speranza di vita sempre più alta, uno stile di vita corretto e un'adeguata alimentazione siano fondamentali. Il responsabile della formazione di Federpharma, dottor Antonio Marinelli, ha evidenziato come sia fondamentale per i farmacisti essere costantemente aggiornati su tutte le novità, in questo caso relative alle teorie di Barry Sears. Grazie a tutti.